Bene, partiamo. Allora, buongiorno a tutti, tutti i programmatori, sono molto contento. Per l'alzata di mano, quanti di voi hanno già sviluppato in Xpages? Ok, quanti non hanno sviluppato in Xpages ancora ad oggi? Ok, perfetto, no, c'è un buon numero. Allora, la sessione è stata modificata all'ultimo ed è divisa in due parti. Prima parte, novità del client, del designer R9, giusto perché l'ha dovuto metterla, e poi una serie di tips and tricks, ok? Suggerimenti sullo sviluppo. Chi sono ormai lo sapete, quindi sono il creatore, ho la mia company, la mia azienda, i miei riferimenti, ma andiamo oltre. Novità R9, lo tratti appunto da delle slide ufficiali da IBM perché non me le ricordavo tutte. Sono raggruppato in questo, è carrellata di elenco, le andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Il nuovo designer l'avrete sicuramente visto, il vecchio designer era di colori leggermente diversi. Per quanto riguarda le novità, allora partiamo con la prima. Già nella 8.5 si parlava di extension library. Qual sono le extension library? Le extension library sono dei controlli aggiuntivi che IBM ha rilasciato per poter aumentare il working set, cioè lo strumento di sviluppo già pronti all'uso all'interno delle tue X pages. Nella 9 hanno già incluso l'upgrade pack 1. L'upgrade pack 1 sono un centinaio di controlli usciti nel 2011-2012, se non ricordo bene l'anno, che IBM supporta. Cioè vuol dire avete un problema, non funziona quel controllo, potete aprire una PMR in IBM e chiedere assistenza. Che cosa è escluso? Sono esclusi tutti i nuovi rilasci, i nuovi rilasci che sono pubblicati all'interno di OpenNTF. All'interno di OpenNTF ci sono gli ultimi backfix di questi controlli e soprattutto ci sono una serie di controlli aggiuntivi tipo quelli mobile, tipo quelli per l'aggancio relazionale e tipo quelli social che potete utilizzare. Cosa cambia tra il primo e l'ultimo? Cambia che questi vanno installati e non sono supporti ad IBM, cioè non potete aprire una chiamata verso IBM. Gli altri invece sono supportati ad IBM. Io consiglio comunque, visto che tanto il supporto di IBM a volte non serve molto nella parte programmativa e soprattutto perché questi sono backfixati prima, di utilizzare sempre gli ultimi rilasci dell'extension library di OpenNTF. OpenNTF è un nostro sponsor e è la nostra sorella come community a livello worldwide. quindi è una community internazionale ricca di contenuti sia per programmatori, anche di un sacco di custom control per l'expages. Novità, qualcuno di voi magari l'aveva provato, è il debugger server side, nativo nel designer nuovo. Voi ad oggi a livello xpages potevate debuggare lato client con fair bug o strumenti di terze parti il frontend applicativo, il backend, quello che c'è l'applicativo o sparavate un sacco di dump, un sacco di system auto print line oppure come facevate a vedere le watching delle variabili, non potevate. hanno introdotto appunto, che in realtà ha preso dal mondo Eclipse la remote java connection e il deploy è molto semplice, non spaventatevi. Si mettono tre stringhe sul server, quelle tre stringhe lì, esattamente, dove sulla porta 8000 è in ascolto il debug. Fatto questo si preme quel bottoncino lì di configurazione e a quel punto si switcha la modalità quando si arriva in quel break point perché se ci fate caso nella 9 avete il pallino del break point dove potete appunto abilitarlo nel sorgente della vostra Xpages e si ferma esattamente dove voi desiderate. Quando entrate sulla pittà e fate step by step, step in, step over e riuscite a fare anche un watching delle variabili ed in tempo reale fare un'espressione per valutare, che ne so, una somma di due variabili o qualunque altra funzione basilare che volete mettere in fase di debugging. Attenzione solamente a una cosa, al debug. Da quello che ho testato io e da quello che ho letto velocemente è single user, cioè vuol dire se io entro in modalità debug, sto debuggando io, non può entrare anche lui a debuggare. Ok? E uno utente alla volta. Adesso non so se era un problema della mia connessione o meno. Comunque non era contemporaneo il debugging. Altra novità della R9, hanno introdotto appunto questa opzione per poter debuggare meglio il codice con Firebug. Quindi, lato frontend, il codice che viene deployato in un XPages è ricco di componenti dojo e fogli di stile e quant'altro. Questi componenti sono stati impacchettati dentro l'OSG e sono compressi, quindi sono praticamente illegibili. Non riesco a fare una lettura. Con questa opzione riesco a decomprimerli e riesco quindi a fare, in caso di errore, riusciamo a capire cosa diavolo è successo in quel componente, un debugging chiaro di quello che sta succedendo. Poi, altre novità della R9, parliamo di XPages Productivity, cioè miglioramenti sullo strumento di sviluppo, quindi quando scriviamo un tag all'interno del sorgente ti assiste, cioè ti dice, ti propone la soluzione che devi utilizzare. Quando siamo su una risorsa linkata, tipo un foglio di stile, una risorsa server-side, javascript, una risorsa java client, scusate, javascript, mi sono impappinato, avete col control click la possibilità di aprire direttamente la risorsa. Quando posizionate col mouse su un elemento vi fa l'helping a quello che vedete adesso a video. Vi salva la gestione della palette, del vostro designer in quel momento su ogni single XPages, quindi non perdete neanche la disposizione degli oggetti. Vi introduce un nuovo elemento nella GUI che è il jar design element. Prima, per poter allegare un jar, dovevate switchare la modalità, la prospettiva, in java sorgente, adesso non ricordo bene la prospettiva, come si chiama il nome, cambiamo la prospettiva e praticamente dovete creare una cartella bin, dovete fare un po' un casino per ricompilare il build path. Questa cosa qua non si va più. Cioè praticamente se avete dei jar da tirare, dentro l'XPage, che sono delle librerie tipo i text e company, li popolate lì dentro, automaticamente è già precompilato il build path, quindi potete accedere a quella libreria. Hanno migliorato il working set? Migliorato nel senso che adesso si vedono tutti, prima si vedevano i primi N, non si vedevano tutti quanti nel working set. Sapete cosa è il working set? è praticamente quel tab che c'è in alto nel designer, dove potete raggruppare i vostri applicativi catalogandoli. È molto comodo perché se voi non catalogate gli applicativi, vedete che ci mette molto di più il designer a lavorare. riguardo alle performance, vi dico anche che per esperienza, lavorate direttamente su un server, il designer vedete che mascina molto, nel senso che alla fine lui compila del codice sorgente in locale, poi lo spara su server. Consiglio sempre di rieplicare la copia in locale, e lavorare da lì, o disattivare la compilazione automatica, per poi riattivarla quando dovete, appunto, ricompilare tutto quanto il codice. C'è una sessione fatta molto bene da Ulrich, che parla appunto di tutte le opzioni per quanto riguarda le performance, che troverete poi in agenda. Hanno fissato un po' di bug, hanno introdotto nella 8.5.3 l'elemento Java, che in realtà era baccato, perché praticamente andava in error 500, l'hanno fissato, hanno risolto dei problemi noti, che rompevano il source control, quindi si rovinava il codice sorgente, non era più leggibile. Hanno fissato un po' di strumenti, un po' di tool, un po' di componenti, usciti nella correct pack 1. Hanno migliorato le performance, e l'out of error, memory out of error, praticamente l'errore quando andava in overrip di memoria. E hanno fissato delle piccole anomalie sull'editor lotto script. Hanno introdotto la nuova versione di Dojo, che ha la 1.8, adesso c'è la 1.9, che supporta il mobile un po' meglio, e è stato fissato, ha fissato alcune anomalie di cross browsing. CK Editor, l'editor recitext, portato alla 3.6.3, attualmente, se ricordo bene, abbiamo l'ultima release alla 4.1.2, ti permette adesso di inserire più istanze, prima non potevi, andavi nel rodo di fare un po' di workaround, di CK Editor all'interno della tua Xpages, supporta le immagini embeddate, supporta l'applo degli allegati, ha finalmente lo spill checker per controllare il testo prima che debba essere validato o inviato, e loro l'hanno dichiarata così, una migliore gestione dell'iOS, cioè se voi andate con un dispositivo iOS sul CK Editor, avete un minimo controllo, non è fenomenale, l'hanno incominciato a sistemare da qua, vedrete che poi nei prossimi rilasci, CK Editor sta spingendo il suo editor, soprattutto per i dispositivi immobili, ancora per Android non c'è, per esempio l'editor, perché stiamo parlando di un editor con grassetto, corsivo e robe che un browser ha, ma che un dispositivo mobile non hai. Hanno introdotto un controllo molto comodo, il controllo di Redirect, sostanzialmente cosa fa? Sostanzialmente andate su quelle Xpages, parametrizate quel controllo, ti fa redare 302, se ricordo bene o 304, non ricordo mai qual è l'uno, qual è l'altro, verso un'altra Xpages. Come? Controllo chi sei? Sei un mobile? Ok, stai arrivando su Xpages, home page, ti ridireziono verso M underscore mobile, che ne so, per esempio. Oppure, con delle regole di ridirezione, che sono le ultime in fondo, diverse, tipo, che tipo è l'user agent, che tipo di asset hai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un strumento di redirect, di ridirezione. Ecco, su questa cosa l'hanno annunciata, non l'ho mai provata, comunque sia, l'integrazione col mondo sociale di IBM, quindi col connection, tanto per intenderci, quindi vedete che c'è un'azione nuova negli event handler, che è quella di, chiamata Embedded Experience, JSON, che mi permette di mandare, in questo caso, una mail, in formato JSON, verso connection, e supporto drag and drop via mail. Questa cosa però non l'ho provata, è stata annunciata, ma bisogna avere anche la casistica per poterla provare. Hanno migliorato invece, Xping, Xping che cos'è? Xping, per chi è venuto nelle sessioni scorse, è una cosa molto intelligente che ha fatto IBM, cioè quella di portare l'esperienza Xpages web, quindi da browser, dentro il client notes, cioè la tua applicazione viene renderizzata, così come se fosse un browser, però dentro la workspace di notes, dentro il framework Eclipse di notes. Il problema qual era? Che Eclipse, Xping, quando nacque, miglioro dei parametri per migliorare le performance, ma comunque era molto lento. Il problema più grosso era appunto che la transazione, io avendo fatto l'analisi con un wire shark del traffico, ogni click transava tipo 10 megabyte alla volta, era una roba fuori di testa, e quindi di conseguenza o in LAN locale o se non l'applicazione era inusabile se eri fuori dalla LAN con il client notes. Quindi, hanno introdotto Xping, hanno introdotto una funzione nuova chiamata Xping remote, run on remote server, che sostanzialmente migliora questo traffico che viene rigelato al server, e in più hanno esposto questa function, della quale anche qui ho solamente un esempio ma bisognerebbe approfondirla, che è l'execute command, cioè eseguo un comando del client quando sono su un'applicazione Xping, cioè eseguo un message box, in questo caso aggiungo un'icona alla workspace di notes dentro appunto la modella Xping. Questa invece è appunto l'esecuzione di Xping sul server remoto, quindi come si attiva? Si attiva con quel flag che vediamo lì a destra, ma non basta. L'ho spiegato su Dominopoint, quindi c'è un articolo dedicato, ve la faccio molto in breve, va attivata così, va pushata una policy lato amministrativo che predispone le connessioni HTTP verso quel server e va definito, questo non so se si può fare tramite policy, comunque nelle preference del client quel nome server a che URL appartiene. Basta, finito. A quel punto lui accede in modalità remota, Xping, significa performance consettualmente, è applicazione che fa un traffico dati veramente minimo, 150k alla volta, più o meno, dipende quanto pesante può la vostra applicazione. Bene, questa era la cosa che dovevo fare obbligatoriamente, adesso facciamo una cosa che mi diverte di più, che è la cosa appunto che vedete sullo schermo di sinistra, che è la sessione alla quale voi volevate appunto partecipare. Ho portato un po' di mie esperienze, mie diciamo noccioline di esperienze che magari vi possono essere utili per poi portarle appunto nei vostri progetti, nelle vostre soluzioni, quindi alcuni suggerimenti riguardo appunto questa tecnologia, di questo ambiente di sviluppo. Vi anticipo già che è una sessione dedicata agli advanced user, cioè praticamente a chi ci ha già lavorato, a chi sa bene come funzionano i controlli, quindi dopo è scontato la parte base delle Xpages. Andiamo a vederla. C'è una demo app, eh sì grazie, c'è una demo app sulla sinistra come vedete, sono già logato e notare, la demo app è un app layout control dell'extension library tradotto L1Wi 2.1 layout che è il mio layout di default. Se Stefano clicca dove c'è default in basso a sinistra e cambia qui, clicchi qua. Io l'ho cliccato, si vede di là, questa qua è la tua slide, è di là. No, che coglione. Allora, se lui clicca il tema e cambia il tema vai verso OneWi, ok, è uscito. Ok, fai login, l'ha fatto. Cambia da default, metti a passo. Su, su, scusa. Scusate, ho messo il keep alive, ma si vede che non l'ho mantenuto. Ok, se lui cambia il, vai, cambia da OneWi, va a che ne so, vai un boot, ah, scusa. Va bene, va bene anche questo qua. Come vedete cambia il tema, switcha in tempo reale e usa un altro tema, che è sempre il OneWi. Poi andiamo a vedere questo controllo, fino ad arrivare al tema bootstrap che è appena uscito nell'extension library che è il tema dedicato al mondo mobile. però quello che vedete in questa fase, adesso poi magari nella sessione chiede agli esperti o quando mi becchierete fuori farò vedere appunto il sorgente, è l'app layout. Cioè io ho usato solamente il componente app layout e l'extension library che è quello fornito appunto anche nell'appare di pack 1. Allora, primo metodo, sì questo è il tema quello di default che va bene, fa un po', metti OneWi, OneWi 2.1 così torna a quello precedente, quello predefinito, perfetto. Ok, scusa. No niente, allora, primo metodo, execute on server. Allora questo qua magari per qualcuno di voi è nuovo. Cioè che cos'è execute on server? Concettualmente è sono lato client, sono con del codice javascript, devo invocare un evento che è server site, posso farlo? Sì, posso farlo. Qualcuno nel 2010, qualcuno è presente a quel link, pubblicò la soluzione, quindi la libreria javascript client che invoca appunto l'evento facendogli passare tre parametri. Il primo parametro è qual è l'handler da invocare, quindi di un'azione da invocare, qual è l'id dell'evento da refreshare e quali sono le opzioni per l'event handler. Questa roba sembra un po' strana, andiamo verso la demo e vi faccio capire un po' meglio questa cosa qua. Allora, c'è un event handler all'interno del mio codice sorgente che fa il salvataggio del documento. Di default voi cosa fate? Premete il bottone, lui esegua il salvataggio e refrescia completamente la pagina. Questo è il comportamento normale dell'Xpages. Io ho preso l'event handler, il componente xp.event handler, l'ho messo nella root, l'ho chiamato autosave, premi il bottone, scrivi qualunque cosa, ok, anche sotto, e fai salva execution on server, ok, questa roba qua che cosa fa? Scatena dal client l'event handler che c'è sotto, ha salvato già il documento in background e mi risponde anche quando finisce l'esecuzione, vai ok, completata l'esecuzione, adesso ci sono degli errori. quindi ho il controllo da client di un evento in back-end. Vediamo, andiamo avanti. Aggiungiamo un altro pezzettino, perché poi vogliamo arrivare a un custom control che ho realizzato. Dojo Toaster, cos'è Dojo Toaster? Dojo Toaster è un componente Dojo Client per gestire le notifiche, no? Che appaiono dall'altro, dal basso, vediamola nella demo, clicca due bottoni, ok? Vedete, il bottone che appare con l'effetto su da destra verso sinistra, cambia la direzione, sembra una roba complicatissima in realtà, ok? Clicca quello che vuoi, perfetto, appare da sopra sotto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo strumento di notifica è fornito già con Dojo, cioè non è che me lo sono andato a creare, è solamente pacchettizzato con un custom control, parametrizzato, fornendogli tre opzioni, la duration, la durata di quell'effetto prima che scompare il messaggio, il messaggio che devo buttare fuori e la posizione, la posizione sono solamente quelle lì, apri il ramo, cambio direzione, sono quelle, quindi bottom right up, quindi dall'angolo destro in avanti, bottom right left, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è molto comodo quando fate applicazioni interattive, cioè quando volete far vedere all'utente un qualcosa che è diverso rispetto a un alert. come si stanzia, come si scrivono i messaggi, una volta definito il custom control, definito, scusate, l'elemento dojo, we get the toaster, si definisce qual è il canale di ascolto, cioè definiamo la variabile che il canale di ascolto è messaggio errore, per esempio. Facciamo un dojo.publish, messaggio errore, quello che vogliamo, tutti i messaggi incanalati, buttati in quel canale, appariranno di continuo su quell'oggetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Stefano continua a premere il bottone 1, vedrete che man mano si aggiungono i messaggi in quel canale, man mano che lui riceve li butta fuori. Ok? Bene. Andiamo avanti. Allora. Purtroppo non ho il giochino quello per far andare avanti dietro. Parliamo di un'altra cosa che è il CK Editor. CK Editor presente nella 9, è la 3.6.3 ed è quel componente che in realtà vedete lì che è quello del editor rich text concettualmente, no? È cross browser perché è CK Editor che lo supporta. Ci sono delle app pubbliche che potete utilizzare e ci sono diverse plugin che potete implementare è usato da una vagonata di vendor tra i quali c'è anche IBM quindi comunque sia è l'editor più famoso e più diffuso e più stabile che c'è oggi in commercio. Ci stanno lavorando come dicevo su Android e c'è un mini supporto per iPhone. Posso customizzarlo tant'è vero che quello che vediamo in live che cos'è? Ah, grazie. Grazie mille. È arrivato il giochino il joystick. Grazie. Funziona? Il giochino deve fare qualche lucina strana? Aspetta che magari assista. Forse? No, ma non importa fa niente. Se va bene se no pace. Se hai bisogno sfogli ma sfogli dentro un coffee break. Ok, se ho bisogno non faccio prendere il caffè a loro in pratica. No, vai avanti un quarto d'ora in più e ci metto un quarto d'ora per andare per fare. Perfetto. Allora dicevamo ckid allora mi metto qua che non dovrei dar fastidio. Allora questo controllo ha diverse feature attivate. Uno il carattere predefinito che io ho settato praticamente dentro qua se ricordo bene prova a scrivere qualcosa Stefano dentro il body se ricordo bene c'è arial predefinito è una roba del genere. Prova a premere tante volte invio Stefano ok fermati scrivi qualcosa e premi invio una volta ok non lo sta facendo però in Tria deve essere attivato solo un carriage return e non il paragrafo quando premete invio quando premete il tab fa quattro spazi e quando va sotto proprio tante volte invio vediamo se fa l'autogrove sì adesso è attivo l'autogrove che è quella funzione nativa che praticamente man mano che premete invio lui espande l'editore ctext questa cosa può essere disattivata e si può essere disattivata vai avanti scusami disattivata praticamente passando all'interno del controllo ck editor dei metodi dei parametri questi parametri non me li sono inventati ma sono presenti nelle app di ck editor quindi in questo caso l'enter mode 2 che significa quando premi invio fai un br quindi vai a capo e non fai il paragrafo quando premi il tab non cambi il focus all'interno dell'expage all'interno della tua pagina web perché se vedete che via web se premete il tab lui va dall'elemento A dall'elemento B all'elemento C ma no rimane dentro lì e fa quattro spazi rimuove quel plugin che adesso abbiamo visto che è dell'autogrove quindi lo spostamento verso il basso e definisce il font predefinito in realtà ce ne sono molti altri di parametri quindi anche il tipo di toolbar large, medium, slim per esempio che potete andare a vedere all'interno della, come dire delle api pubbliche che vedete là di quel link queste informazioni vengono inserite all'interno della GUI Dojo c'è una roba che si chiama parametri Dojo metodi Dojo e andate a inserirli dentro ci sono una serie di suggerimenti riguardo a CK Editor che sono presenti sopra nell'etf vedrete sotto la sezione quindi briciole di pane no briciole praticamente suggerimenti e vedete tipo come fare il focus sull'oggetto come ottenere il contenuto di quell'oggetto come aggiungere questa è una roba molto carina come aggiungere via back-end ah si funziona via back-end il del contenuto con server-side javascript vedete che fa il document 1 che è il nostro documento notes concettualmente il nostro diciamo chiamiamolo xspd document settiamo il valore gli diamo il nome del campo associato e con questa diciamo libreria aggiungiamo del codice html ora anche se siamo andati velocissimi su queste cosine qua io volevo arrivare a questo cioè volevo fare vedere praticamente che ho assemblato l'execute on server il dojo toaster il il ck editor per fare una funzione che fa l'auto saving un custom control che fa l'auto saving cosa significa? avete presente google quando ho mandato una mail dove automaticamente sotto fa auto saving in corso man mano che viene modificato il test bene quello che vi faccio vedere è proprio questo clicca su auto save c'è un bottone abilita auto save fa apparire la notifica dell'auto save se Stefano scrive del testo dentro il body lui fa un pooling ogni non mi ricordo se 3-4 secondi controlla se il testo è cambiato se è cambiato lo spara lo salva con l'execute on server ok stai fermo così facciamo vedere che non succede niente ok allora stai fermo lì così vediamo che non succede niente ho pubblicato un articolo per spiegare come si fa a fare l'auto save è già su dominopoint vi dicevo che sfrutto ho creato un event handler che fa un semplice salvataggio c'è l'event handler lì nessuno lo invoca se non questa libreria javascript per eseguire il salvataggio come faccio a controllare che il ck editor è cambiato allora innanzitutto come faccio a controllare che il contenuto di un qualunque diciamo controllo è cambiato quello è più semplice perché basta prendere lo stato del componente prima e prenderlo dopo ck editor è più fetente perché ck editor quando viene renderizzato su web non so come dirvi bm l'ha implementato in realtà si è implementato con due oggetti due div quindi quindi quello che c'è prima è quello che c'è dopo quella funzione non me la sono inventata l'ho presa proprio facendo il reverse engineering del sorgente di un rendering di ck editor che quella roba qua va a verificare è cambiato qualcosa in ck editor si o no risponde così se è cambiato qualcosa scateno il custom control dell'autosave quindi scateno l'execute on server che quando viene scatenato l'execute on server scatena il dojo toaster ok qui c'è un pezzettino di codice dove appunto vi racconta fondamentalmente quello che è stato fatto cioè esattamente in questo caso quando parte diciamo quando è cambiato qualcosa quando parte l'autosave controlla se è cambiato qualcosa e fa apparire appunto i messaggi quando è stato salvato io ho messo del console log in realtà eseguo il messaggio dojo publish alla fine della fila per scatenare la notifica quella web oppure se si verificano un errore anche viene fuori un errore come faccio a pullare cioè a fare il check di cambiamenti allora il check di cambiamenti usi la classica funzione client setinterval che è sostanzialmente ogni 10 secondi scatena quella funzione che ho creato autosave javascript e lui fa il controllo e la funzione clear interval che concettualmente rimuove questo intervallo temporale quindi rimuove questo controllo ciclico sulla mia pagina quella funzione viene attivata esattamente quando premiamo abilità disabilità vedo faccio un po' perplesso però andiamo avanti ok come? come? riesce a comprendere quando è modificato si lui ogni 10 secondi ogni 10 secondi scatena quel controllo quella roba qua guarda questa se resistisce true allora è stato modificato allora scatena l'event handler e vabbè in più faccio vedere il messaggino se resistisce false non è stato modificato nulla non succede nulla non succede nulla no lui continua col cliente sono inedite sono in ascolto quindi io lui ogni 10 secondi controlla è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa si no è cambiato qualcosa finché trova la modifica scatena qualcosa non trova niente non fa nulla sì 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 allora poi agiamo un pezzo agiamo un pezzo che è un nuovo custom control un nuovo custom control adesso abbiamo visto l'esecuzione da client di un evento solamente di un evento server di un event handler se io volessi da client questa funzione è molto potente si trova nell'extension library ed è un controllo appunto dell'extension library se io volessi invece scatenare qualunque cosa server side cioè volessi premere quel bottone per esempio display user che è dove Stefano è in questo momento e lui ti risponde se hai Daniele Grillo non è che lo faccio frontend lui mi risponde con un chioccio la username ok come posso fare viene in gioco appunto questo controllo questo controllo è suddiviso in diverse parti la prima parte è che qua non si vede è dammi il nome del controllo della service la chiama ok quel nome della service poi lo posso usare immediatamente lato client quindi facciamo finta che si chiama check check punto metodo get username punto get username in questo caso che siamo qua restituisce retro username attenzione perché è importante capire il gioco cioè questo controllo dice io sono qua sono nell'expages al frontend ti do una funzione chiamata check punto get username questa funzione scatena in background la chiamata server side chioccio username e questa roba qua mi risponde praticamente con un messaggio al client che è l'esecuzione di quel messaggio è fortissima questa funzione è l'interazione che c'è tra client e server lo vediamo anche in un custom contro successivo custom contro successivo perché? perché è nata l'esigenza per un cliente di modificare il comportamento tradizionale di un xpages che è quella del doc lock nativo mi spiego meglio voi se all'interno del data source di un xpages mettete concurrency mode uguale fail e salvate un documento e due persone in contemporanea sono in modifica su quel documento allora quello che succedeva è apparire questo messaggio che ti dice guarda c'è un'altra persona che sta modificando il documento il cliente mi disse sì però mi piacerebbe qualcosa che ha prima di entrare sul documento mi dicesse il documento è stato lock si può fare inizialmente ho detto non lo so se si può fare poi pensandoci un po' bene e mettendo insieme anche qui una serie di oggetti tra i quali il json rpc lo snippet e l'executo di un server scusate lo snippet scusate il toaster e l'executo di un server sono riuscito a creare qualcosa che verifica che se ci sono due utenti sulla stessa pagina ti informa di questa verifica Stefano qui in questo caso devi fare una roba diversa devi aprire Firefox e mi devo copiare l'url per farlo vedere se no perché magari spiegato a parole forse è difficile facendo delle in pratica poi uno dice me la c me la v aspetta che mi loggo login scusa anche io potevo fare l'autologin ok si riusciamo a affiancare le due finestre ci provo grillo daniele di qua grillo daniele di là mi riduco proviamo a affiancarle se riusci a affiancarle una fianca all'altra così facciamo vedere proprio l'effetto reale siamo due client due browser uno magari non è sufficiente due sedi remote non lo so e Daniele facciamo finta che quello di Daniele e quell'altro di Stefano sta editando questo documento ok mentre modifica sullo schermo di sinistra perfetto appare quello il documento è modificato e non solo appare quello in più mi as qui non si vede mi disabilita il tasto di modifica e anche se lui cliccasse su modifica perché non me l'ha disabilitato mi vorrei fare un messaggio che mi dice il documento è bloccato nel momento in cui Stefano fa torno all'elenco il documento è modificabile eh? carino no? perfetto adesso andiamo a vedere come l'ho costruito come è stato pensato allora ce la spiegare un po' di cose allora inizialmente l'idea nacque sullo stesso server sullo stesso server questo giochino qua poteva essere fatto non usando un un database un database a parte ma praticamente usando l'application scope per esempio dove nell'application scope caricavo le università di siccome questo cliente era una situazione molto particolare dove c'era un server qua un server da un'altra parte del mondo ed era praticamente questi server erano in cluster si pensò appunto di creare un database sempre in cluster chiamato semaforo il cluster dove venivano buttati le universal id in cui l'utente era entrato in modifica ci siete fino a qua quindi quando premo modifica crea un documento con lo universal id ha entrato in quel database vuol dire che il documento è loccato ok questa soluzione l'abbiamo fatta solamente perché era in situazione di cluster mode quindi questa applicazione funziona nel caso in cui l'XPage sia in cluster con un altro server quindi è ancora più tosta no? c'è un controllo json rpc che è appunto quel controllo che abbiamo visto prima che in questa fase cioè nella fase di lettura cioè se Stefano riclicca su grillo in alto a sinistra clicca modifica su quello fermati qua clicca modifica su quello di destra per esempio il messaggio appare di là che cosa fa ogni tot tempo sempre con questo timer controlla invocando quel controllo json controlla fa una look up mettiamola in maniera così semplice quella di semaforo quel ID è presente sì no e lo fa ogni due secondi tre secondi non è una roba fenomenale dal punto di vista della tecnologia perché in realtà tecnologicamente c'è una roba nuova HTML5 che si chiama WebSocket che non come dire non rallenta il tuo browser però quella cosa lì purtroppo non è supportata nell'Xpages dovrei avere il tempo di costruirmela capire come estendere il motore dell'Xpages con OSG per creare appunto una WebSocket però diciamo che funzionalmente questa roba qui ci sta funziona anche perché è usata in produzione mi sembra che feedback negativi non ho ricevuti quindi mi auguro che stia funzionando poi nel momento in cui l'utente in questo caso è in modifica in realtà non è vero che non sta facendo niente il client il client in background chiamata AJAX sta aggiornando quel documento semaforo perché c'è un timestamp dell'ultima ogni 3 secondi continua a aggiornare l'ora quel documento questo perché perché tradizionalmente io mi aspetto che l'utente prima il bottone torna indietro ma potrebbe suggerire l'utente chiude il browser se l'utente chiude il browser mi rimane un documento di lock sporco però cosa succede e non riesco più a rimuoverlo per me è sempre lockato aggiungendo il campo timer cioè ultima modifica cosa faccio controllo se se questo viene ogni 3 secondi modificato ok quindi il time il time continua a fare 10.05 10.07 10.09 10.012 eccetera eccetera continua ad aggiornarsi controllo con quella funzione che c'è qua ciclica se quel timer si è bloccato per 15 secondi vuol dire che si è bloccato per 15 secondi vuol dire che questo non sta più funzionando vuol dire che questo ha chiuso il browser e lo sblocco in automatico ok oddio io ho messo un time out ok tu ci sei perfetto e qui c'è un semplice workflow dove appunto si vedenzano i due scenari aperto e modifica aperto succede questo viene chiamato l'islock l'islock cosa fa chiama la funzione server side la look up che dice è presente dentro lì sono passati i 15 secondi sì o no se sono passati i 15 secondi se è bloccato scusatemi tutto quanto è regolare lui si succede true o false allora dice ok è ancora lockato altrimenti non è lockato posso modificarlo quando siamo in edit siamo nello scenario B c'è la funzione invece execute un server invocata che fa esattamente l'aggiornamento del timing presente nel documento del semaforo e facendo quello continua a stare a scrivere questo documento semaforico il record quindi c'è un'attività dell'utente concettualmente quindi si sta lavorando si problema che nell'express non c'è un controllo alla notes come nel client notes che tu apri il documento fai le modifiche e ti dici che il documento è stato lockato l'ho ricreato l'ho creato apposta per un'applicazione web quando superi il timing viene cancellato il record ok sì bravissimo allora se siamo in caso di un cluster dove siamo in Italia qua e abbiamo un fuso orario che è qua e siamo in California dove abbiamo un altro fuso orario ovviamente i due documenti hanno due fuso orari diversi come gestisco il controllo uso appunto il formato sì quello converto gli orari nel formato chat se ricordo bene si chiama così e di modo che li rapporto con un fuso orario internazionale quindi converto i due orari in formato internazionale e li confronto con quello lì se no non posso non posso fare il match ok altro oggettino questa cosa qua io non so in quanti la usano ma mi ha salvato la vita più di una volta questo è un controllo che è l'XPage Developer Toolbar che è un custom control che voi prendete da OpenETF lo inserite all'interno della vostra praticamente puoi chiudere anche il secondo schermo se vuoi grazie che lo inserite all'interno della vostra applicazione e potete debagare come se fosse un simile Debugger Lotus Script non solo i messaggi di errore che volete generare nel vostro codice server side ma anche fare verificare le variabili clicca su Application Scope nel menu nel bottone in alto lì anche tutto lo stato delle singole scope variabili clicca Stefano su InfoMax Debug i bottoni quelli che vedi sotto 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 qua questi qua questi qua e in più potete scatenare appunto dei messaggi che adesso li facciamo simulati all'interno delle vostre routine che appaiono nella sezione message in alto della developer toolbar in alto a sinistra nell'angolo dello schermo è scritto messages apro sì quei bottoni appunto fanno in modo che tu loghi quello che stai facendo e lo vedi via web in più questa developer toolbar ha l'inspector cioè vede tutti i componenti quindi li puoi ispezionare e fare anche questo lo faccio io ste puoi fare per ogni componente che ne so la label ti dà tutti i metodi di quel componente proprietà di metodi è una figata secondo me questo strumento qua per poter sviluppare per poterci lavorare eh ed è gratuita ok ora questa questa qua eh ajax upload allora vi è mai capitato di dover allegare un file alla vostra xpages e nativamente dovete fare il classico allegato spiegatino fate upload non è ajax ma è sbiancata dallo schermo fa la post verso il server magari se sono allegato è leggero che se frega ma se sono allegato alla 20 mega comincia a diventare oneroso il tempo di attesa per l'utente questo controllo vi permette di fare appunto l'upload questo è un controllo preso da OpenETF anche lui che ho usato in un progetto dove c'erano allegati molto pesanti una form con una roba tipo adesso se ricordo bene a memoria erano tipo 300 mega per ogni form quindi una roba un po' particolare dove però appunto erano sedi remote dove quando l'utente voleva allegare questi file che pesavano 20 mega all'uno non voleva farle uno alla volta voleva caricarle tutti quanti nella singola form e lanciare l'upload un po' come gli strumenti di upload moderni la posta elettronica di Google Gmail e compri e c'è una barra di progressione che ti fa vedere il funzionamento detto questo l'effetto che succede è proprio questa cosa qua allora fai allega file stay scegli speriamo che funziona con me sì scegli qualcosa poi apri premi salva e upload ok funziona perfetto è quello che abbiamo visto adesso fa l'upload di uno più file e poi eventualmente in questo caso fa un full refresh in realtà nel progetto che ho fatto parte subito l'upload quando lo selezionate il documento e fa solamente il refresh di questa parte qua quindi non fa neanche un refresh completamente la pagina ora questo per dirvi che appunto si può dire che c'è questo controllo l'ho dovuto smontare per capire il funzionamento ho dovuto ampliarlo per il mio caso d'uso vorrei spiegarvi brevemente come funziona funziona in questa maniera innanzitutto è fondamentale usa una roba che è il controllo flash upload uploadify non usa l'html5 perché nel progetto in questione purtroppo io non so da voi ma ci sono un sacco di utenti ad oggi che usano ancora explorer 8 9 anche il 10 fa schifo per quanto riguarda la supporta html5 quindi usano explorer in generale l'11 invece lo supporta quasi pienamente e purtroppo devo usare un controllo flash vuol dire che ci deve essere flash installato per fare quella cosa lì usa comunque sia al posto di dojo la libreria di jacquiri ma chi ci frega perché tanto noi possiamo linkare qualunque libreria vogliamo quando premiamo a lega file lui fa una post ajax se voi ci avete fatto caso di default nel se voi avete guardato il server qui che altro ci avete fatto caso di default quando fate un upload viene creato un file temporale con underscore 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 xsp upload un numero criptico e poi una volta viene allegato in questa cartella temporanea che adesso dalla 9 è possibile parametrizzare dove vogliamo prima era nella temp se ricordo del server sotto barra notes barra qualcosa praticamente fa la post quindi ajax questa cosa qua viene rinominato in automatico e viene riagganciato a rich text questo è il funzionamento diciamo basico di quel controllo l'unico problema è che questo controllo è anonymous cioè è un controllo flash quindi non è che fa un post autenticato fa un post anonymous quindi in realtà per poterlo fare funzionare dobbiamo attivare l'anonymous con accesso deposito che è un accesso minimo però comunque sulla sicurezza un po' incidiamo nella prilaciel in questo caso cosa fa? fa una post verso un xagent l'xagent ne avevo già parlato nell'evento scorso è una sorta di prendiamola agente notes che riceve dei parametri in ingresso fa qualcosa in questo caso riceve il file lo rinomina e lo riaggancia e poi praticamente lo embedda al recitxt ok questo è il codice fondamentale del quale vi vorrei solamente dire che questa funzione prende dell'oggetto che è stato postato che in questo caso nel controllo viene chiamato file prende il suo nome ok questo prende il suo nome perdono questo prende il suo nome ok il nome i underscore xsp sal cavolo poi cosa fa prende il percorso e poi ci sarà una seconda parte dove lo rinomina col nome originale perché il nome originale è questo scusate il nome originale è il nome temporale è questo quando lo rinomino correct file correct file eccolo qua questo è il nome originale che poi deve essere rinominato e poi lo embeddi ok al nome modificato cioè praticamente cosa fa sostanzialmente fa prende quel quel nome temporaneo però sa qual è il nome originale dell'allegato che viene allegato ok perché se io allego pippo.pdf lui viene pushato come underscore underscore xsp 00 non mi ricordo se c'è punto qualcosa però c'è anche una parte che dice questo è pippo.pdf quindi mi tengo la parte pippo.pdf so che si chiama in quella maniera temporanea in questa fase quando lo aggancio rinomino il file temporaneo in pippo.pdf lo aggancio a rich text e poi lo rinomino in maniera temporanea in modo che il domino poi cancella da solo il file temporaneo non si accorge quasi dell'intervento del programmatore eh ce ne sono anche altri che di questi controlli di rich text e questo usa HTML5 poi questo blogger è svizzero ed è secondo me uno dei blogger più bravi che c'è nel mondo xpages lo seguo con tanta tanta ammirazione nonché c'è anche su Julian Bass qualcosa che ha fatto lui e c'è anche l'originato diciamo la persona che ha originato tutta questa logica che ha scoperto che ha debagato tutta questa logica che trovate appunto in quest'altro link le slide poi verranno pubblicate su Slashare ora quanto tempo ho? penso 10 minuti al massimo adesso non ho non di più sono le 10.34 sono le 11.34 ora sei partito vabbè facciamoci velocissimamente tema per definire VM è OneWay OneWay è il tema che VM allora partiamo da un preconcetto devo sviluppare l'applicazione bene per quell'azienda bene devo sviluppare il design cavoli prendere web designer studiare il design renderlo cross browser è un lavoro oneroso in termini di tempo è forse più bello ma comunque ci vuole tanto tempo a poterlo fare e il cliente quando gli dice si ma ci voglio una settimana di presentazione ti dice ma sei scemo cioè devo farlo per non ho budget allora il tema OneWay ci viene incontro perché ci viene incontro perché praticamente è un tema già pronto di VM che possiamo customizzare con dei controlli visuali e buttarlo fuori a video quello di cui vi sto parlando sostanzialmente è l'aspetto applicativo che noi adesso abbiamo che in questo caso predefinito è il OneWay versione 2.1 se Stefano scorre là la tendina di OneWay vai su OneWay 3.02 che è il tema che già è presente nella R9 vedete cambia già qualcosa che è quasi il tema di connection ho provato anche a prendere il tema nuovo di connection buttaglielo dentro che è il OneWay next apri lì ma fa un po' di casini perché se non c'essessi un po' sputt... ah questo magia su Mac funziona questo è il OneWay next non è ancora uscito è di connection 4.5 praticamente è il nuovo OneWay che poi uscirà su IBM l'ho preso i sorgenti delle OneWay l'ho cablato all'entrata della mia Xpages e gli ho dato in pasto vedere cosa succedeva torniamo dietro sul OneWay 2.1 aggiungo solo una cosa sul OneWay allora OneWay praticamente abbiamo tutti questi controlli visuali per aggiungere il menu per aggiungere praticamente i tabettini lì in alto per aggiungere il logo c'è tutta una roba visuale lui cosa devo fare devo semplicemente valorizzare dei campi e lui automaticamente si completa e più è cross browser cioè se lo apro con Explorer mi pare che fino all'8 è supportato forse anche fino al 6 il OneWay 2.1 8, 6 non mi devo preoccupare di renderlo cross browser funziona già e tutti i controlli che ci sono qui dentro all'interno sono già convertiti in automatico secondo lo stile di quel tema ok vi ho spiegato come usare il OneWay Next che è questo no scusate non vi ho spiegato come usare il OneWay Next andiamo avanti novità novità attuale di marzo è il OneWay è bello è quello che volete ma da mobile non è utilizzabile non è utilizzabile voglio rendere l'applicazione in qualche modo servibile avete presente il bootstrap team cioè quello che praticamente è adatta al dispositivo il tema se è il layout se è grande al dispositivo mobile ecco hanno fatto il lavoro della miseria che distribuisce un tema per 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 le x pages che supporta il bootstrap quindi in pratica basta aggiungere l'update site che è questo praticamente database dove voi deployate le extension library anche questo componente abilitare la nuova libreria che appare poi nel designer perché anche nel designer dovete fare l'aggiornamento e avete due temi nuovi il OneWay 2.3.1 e il OneWay V3.1R Stefano fai OneWay 2.3.1R e riduci la finestra magari prendi l'home page vabbè ah scusa perché qua c'è il controllo rich text che fa ok prendere un page guardate cosa succede ok si adatta la magia di bootstrap si adatta sul dispositivo mobile ok il contenuto vedi che i menu sono rimasti in alto man mano è praticamente è leggibile il contenuto e man mano che lo riapro poi torno in maniera normale desktop il cambio del tema live con la roba lì sotto in realtà l'ho presa da open etf e sostanzialmente cos'è è un dropbox concettualmente un combo box dove basta passargli dinamicamente con questa sintassi la proprietà xsp.team che è quella proprietà che voi mettete a mano all'interno del tema predefinito delle vostre application preference del vostro progetto e dinamicamente cosa ho fatto ve ne sono creati tutti quanti i temi che sono già predefiniti e lui lancia praticamente il cambio tema e fa un refresh della pagina vi ho messo delle risorse utili purtroppo il mio tempo è finito so che sono andato molto veloce però purtroppo il tempo è quello che è se avete domande da farmi poi nella sessione chiedegli esperti sarò presente se mi trovate in giro che sono lì che sto facendo non facendo nulla chiedetemi tranquillamente sono a vostra disposizione domande non ce ne può domande dopo grazie